Il periodo festivo è ormai agli sgoccioli e, tra pranzi in famiglia e brindisi con gli amici, è quasi l'ora di fare i conti con la bilancia. Il momento della tanto temuta remise in forma si avvicina e allora perché non approfittare dell'occasione per scoprire una disciplina appassionante e adatta proprio a tutti? Il Nordic Walking potrebbe quindi essere l'attività che state cercando. Passeggiare nei nostri magnifici paesaggi, passando ore immessi nella natura, vi permetterà di cominciare l'anno all'insegna di un nuovo stile di vita. Sì, è uno sport volto al benessere, sia da quello dolce, dallo sport dolce, a quello aerobico e anaerobico. Ed è uno sport per tutti, per tutta l'età e per tutte le persone, è relativamente semplice e molto economico perché camminano tutti, quindi basta avere un paio di bastoncini che non costano molto, l'abbigliamento normale di camminata ce l'hanno già tutti. E voilà, basta un po' di voglia e andare sui sentieri o sulle strade e percorrere o nella natura o nei terrazzamenti bellissimi valtellinesi i sentieri che ci hanno lasciato i nostri anziani. Una disciplina nata ad alte latitudini che, oltre al benessere fisico, punta l'attenzione sull'ambito interpersonale, offrendo importanti occasioni di socialità. La grande aggregazione, la riscoperta dei valori e delle bellezze naturali della Valtellina e lo stare insieme. Oltretutto l'associazione si è molto ampliata in questi anni e siamo arrivati a oltre 250 soci quest'anno, quindi un traguardo molto ambiziato per noi. E il nostro obiettivo è riuscire a coinvolgere un po' tutta la valle. Infatti l'associazione si chiama Nordic Walking Valtellina perché vuole far rientrare in sé tutta la Valtellina e le sue bellezze. Per informazioni sul mondo della camminata, per contattare le guide e scoprire i percorsi, è possibile consultare la pagina Facebook e il sito dell'associazione Nordic Walking Valtellina.